Buono! Mi vedi e mi senti? No, ti sento... Innanzitutto io volevo sottoscrivere questa cosa su Sergio Andrigo e basta Però guarda che cosa ho qua, guarda Mamma mia, ma che cos'è? Cos'è questo? Ti chiederai cos'è? Non ti penso di no, ah ecco adesso mi senti Scusate, scusate ma la diretta è questo quindi ci sono volte problemi Che bello della diretta si dice e nelle migliori famiglie insomma Allora guarda eh, guarda che roba Sì, che cos'è? Che cos'è? Guarda eh, senti L'ho rubato a mio nipote, perché? Aspetta perché non è che abbiamo capito molto però Ho detto uomini, donne, è arrivato la rotina Comunque insomma È un mutatore di voce professionale Ah ok Perché ce l'ho? Perché qui c'è un cantante Alla quale cammufferemo la voce Così voglio vedere se da casa questa volta capiscono chi è Allora, pronti? Non capiamo, papi Eh, non si capisce, non si capisce per forza Nooo Ciao Gianluca! È Gianluca! È Gianluca! È Gianluca! È Gianluca! È Gianluca! La grande musica italiana di Gianluca Grignani! Buonasera! Io ti ho cercata con ogni sguardo come se fossi il mio traguardo Mi ha fatto sbagliare con mille vite Ed altre tante risalite Ma stavolta, questa volta sono più sincera Io ti sento per davvero Tu sei la mia pregatura, la testa è dura E vai bene così per me Il ragiontivo, oltre i miei limiti Tu sai ogni uomo, nell'universo È qualche cosa di diverso Cerca qualcuno che lo completa Poi segue la sua stella cometa Questa volta, questa volta Io so quel che vuoi Io ho deciso e non mi sbagli Tu e la tua testa dura Siete la mia cura E va bene così per me Il ragiontivo, oltre i miei limiti Ti ho incontrata già una volta Ma ti sei nascosta Come un ricordo che ne ero proposta Se è riavata Se è riavata Se è riavata all'improvviso Se è riavata Se è riavata Il ragiontivo, oltre i miei limiti è la voce di Gianluca Grigliani al Festival Bar Gianluca Grigliani grazie Gianluca beh noi ci vediamo tra poco tra pochissimo tra pochissimo tante star non so più di canale vi aspettiamo qui a tra poco a dopo ciao